Ciao ragazzacci, sono M1525, siamo qui su Youtubers Life, infatti tanto lo faccio dormire che è la cosa migliore Entro il 4 aprile devo fare assolutamente quel landmine cosino qui, non so cos'è 29 punti, potevo anche non farlo mangiare, vabbè io lo voglio far mangiare per bene, tanto l'insalata va bene Non so quanti di voi se lo ricordano ma sono vegetariano anch'io Nuovo video su landmine, dovrei averceli a sta Playstation 2, mi sembra di avercelo Deve essere come? Un video gameplay, non me lo ricordo più Gameplay sì, quindi aspetta, nuovo video gameplay Se no mi scordo, non sono fia nessuno, inizia video Ok continua, landmine gameplay, dovrebbe andare a giocare qui Infatti va a giocare lì, va a giocare qui Sto regal shotgun non sta andando benissimo Saluto con la mano, ciao ciao Solo questa mi danno, non so perché I capelli alzati, commento satirico, non so perché c'ha i fulmini in testa Sarò Zeus Aggiusta le cose, non ce l'ho questa, porca mignotta Allora mettiamoci commento cantando No cazzo c'era il per due là Non c'ho neanche questo Menù principale, commento fuori luogo Non vanno bene Qui lacrime dagli occhi, urlo celebrativo Ok perfetto La post produzione è sempre bassissima, non so perché Commento divertente, vai così E poi cosa c'è più? Questo, saluta con le tette Ecco le tette Perfetto, prossimo Hai pagato le tue bollette mensili di 80 dollari Porca di troia Porca di troia ho detto peraltro Che cosa significherà mai porca di troia però l'ho detto Allora mettiamo questo qui È sempre un casino È sempre un casino perché qua non si collega mai una minchia di niente Questo sarà alla fine Questo lo metto qui Questo lo potrei mettere qui Mi serve uno alto Ok Va a finire così Si collega ma non benissimo Allora faccio Aggiusto il contrasto Regola il fuoco E basta Perfetto Non ho fatto niente Non ho fatto Processa Ok Interesse Ho fatto un nuovo record dei contenuti Mi ha dato anche dei nuovi livelli E pubblico questo video Perfettissimo Perfettissimo Cos'è qua? Appartamento Totale da pagare Accetta Studio delle collaboratori Appartamento per studenti È quello che ho io Spese mensili Pagate Le ho pagate? Ok non lo so se le ho pagate Mi piace quello che dico Devo fare Edittori senza riposto Dopo biblioteca Vabbè questi poi me ne faccio la so Guarda qui quanto lo sta andando questo Lo sta andando benissimo Allora dormi Hai voglia di accettare? Ok Accettiamo con quello lì Va Se no ci rompo ogni volta le palle È una cosa incredibile Vai a accettare con lui Nuovo ordine Ok questo qui lo faccio Non ti preoccupare Il tuo computer sta lavorando Parliamo con lei Ciao Vogliamo festeggiare stasera? Andiamo all'altra cazza di festa Andiamo alla festa Una cosa che non faccio mai Vestiti Mettiamo il cappello Così da pirla La maglietta con la scritta Poi i pantaloni bianchi Le scarpe rosse Così non si abbinano Gli occhiali non ce li ho Vai così Vai all'evento Non so se posso comprare Dei vestiti nuovi Ok Richiesta da un amico Vediamo il video di successo Grazie Mi dà soldi C'ho un sacco di soldi Ma ci aggiorniamo il computer Cosa più importante è il computer Computer Ok Chi sono io? Io sono questo Prima di cosa farmi registrare Non mi fa registrare Parla con Fernarda Fernarda non è la tipa Che mi voglio bombare Qua c'è una cosa Ah c'è un video Andiamo a vedere Che c'è qua lo shop Vai a parlare con Elizabeth qua Gentilmente tu non guardare La canzone migliaia sul mercato Ok Vorresti avere qualche prodotto esclusivo Certo Cambia la tua relazione Due volte con due persone E tieni questo vestito esclusivo Ma vaffaculo Che me frega Vai a ballare con lei Questa quasi me la bombo Ma io posso Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Parla che questa qui sono sicuro che me la bomba di brutto Voi non potete neanche immaginare quanto Balla di nuovo, balla di nuovo Vai che glielo molliamo, vai che glielo molliamo Tenendo conto di quanti video hai scaricato hai moltissimi iscritti Vaffanculo va, li faccio di qualità, li faccio io Abbraccia Vediamo se me la faccio Questo è il primo contatto con i capezzoli Capezzolo contro capezzolo, è sempre un buon segno Non posso fare però il video, porca mignotta Speravo di poter fare un cazzo di video No, me le vado Andate a fare il culo Andate a fare il culo Me le posso andare? Ah, se ne stava andando, non se ne voleva andare più Non se ne voleva andare, si è attaccato Lì capezzolo contro capezzolo è il massimo Da questo momento sono in grado di andare alle feste ogni volta che voglio Invitando chiunque le mie liste a contatti Le feste sono disponibili e sono inserite in agente del mio telefono Se manco dov'è Alcuni eventi richiedono un certo abbigliamento Quindi posso scegliere un outfit adatto Articolo selezionando Posso comprarlo subito Ah, non posso comprare Clicco sul pc per fare acquisti e compri un vestito Ok, acquisti Andiamo a comprarci un vestito Tanti soldi ci sono Poi compriamo anche il computer Poi click clothing shop Cosa c'è? Uh, eccolo Devo stare attento alle figuracce Ah, ecco Tipo Maglione verde per maschio Verde E formale Ah, questi sono i tipi Qua ci sono le cose da basket Sapete che mi compro? Questo cos'è? Karate Mi compro il maioncino Va Che non sono maioncini Acquista Ok, perfetto E in più Ci compriamo anche il computer Cazzo se ci compriamo il computer Porca di quella troia Quindi Acquista questo Selezionalo Sono 390 La Mi potrei comprare anche il mouse Mouse Ah, voglio di chattare No, grazie E mi compro anche il blue jady 500 dollari No, aspetta allora Il blue jady lo cancello Come si fa? Non si vede niente Si vede 400 dollari Acquista Acquista Questi mi servono Questi mi servono Sono cose che mi servono Quindi Devo farlo per forza Vai qui Facciamo un nuovo video Per playstation 2 Questo qui non so Fia nessuno Qualcosa per playstation 2 Ce l'ho C'ho questo qui Vai Facciamo un walkthrough Così A cazzo proprio Basta risoluzione Filtro pop Bidirezionale Ah, però se non aspetto È inutile Aspetta un attimo Questo qui non lo promuovo per niente Tanto non se lo fia nessuno Eccolo Computer nuovo Con la scatolina grigia Che mi piace tantissimo Avevo preso anche un'altra cosa Si Apri anche questo Cos'è? Ah, il mouse Il mouse Ok Facciamo un nuovo video Su quello lì E che cavolo E che cavolo Ok, facciamo un walkthrough Su questo Inizia video Vai così Oh, finalmente c'ho questo qua Basta risoluzione Sta cazzo di cosa 23 punti disponibili Sono tantissimi Sono tantissimi 23 punti Eh, non era per playstation 2 Che cazzo di gioco ho fatto? Ok, saluto con la mano Ciao ciao Ok Questo ci sta sempre benissimo Qua ci vuole quello che piange Commento divertente Così me lo raddoppia Qua cosa c'è? Eh, hai superato la sfida facile Mmm, commento professionale Dimmi che ci sta Ci sta tantissimo Ci sta Poi Tempo prima di iniziare un gioco Commento fuori luogo ok li sto raddoppiando tutti li sto raddoppiando sono troppo bravo hai trovato un easter egg urlo celebrativo mi serve più verde mi serve più questo qui dai mettiamoci questo ok mi serve post produzione a me poi ci devo mettere il tornado in testa quindi questo così mi dà punti post produzione va bene intanto inizio a trapanare sempre quando registro saluto con le tette saluto con le tette ok metti questo qui questo qui poi metti questo qui questo si collega con questo poi devo mettere questo qui lo posso mettere qua sapete che potrei fare una cosa del genere se io metto questo qua e questo così si collega tutto si poi posso mettere transizione al nero giusto il contrasto aggiusta colore e basta 17 ore e mezzo vai processa nuovo record ho fatto nuovi record non gli interessa nessuno però porca mignotta perché non mi interessa ho scelto il gioco sbagliato mi sa ok questo qui 92 mila quanto è che devo fare adesso non c'è scritto potrei andare a lavorare sapete che lo manda a lavorare 50 per 10 ore mi conviene 40 da me sempre dice 10 euro l'ora fa il programmatore va così incasiniamo il mondo programmato c'è scritto ok vado a fare il programmato il programmato il programmato c'è scritto programmato lì ok ma il tempo va veloce quindi questo qui si dovrebbe anche sbrigare gentilmente 17 ore e mezzo sono tante ok lo mando subito a dormire mo che arriva devo farmi dopo la biblioteca dopo la biblioteca però faccio la sola non so neanche che le sono sapete questo è il bello di registrare non sapere mai niente sempre vivo sempre in un altro mondo io come ti alzi subito maggiti un insalatina è che assolutamente e commenti contrastanti tre giù e due su non è stato un bel video non so perché l'ho fatto insalatina hamburger spaghetti hamburger no però c'è la carne ok maggiti quella mi sazi abbastanza compra del cibo non rompere le palle ogni volta lui viene qui viene mi dice fai questo e fai quello i spaghetti però si compriamo spaghetti va 120 euro di spaghetti 120 dollari parca mignotta se costano questi spaghetti però mi servono per quando ogni tanto c'è vai a mangiarti un caffettino e facciamo un altro video subito caffè così caffè mi basta poco mi basta andiamo a comprare subito un gioco così finchè arriva questo qui non è piaciuto non è piaciuto non lo faccio più non lo faccio state tranquilli il mio voto quindi questo l'ho comprato questo l'ho comprato questo qui sta scendendo potrei prendere questo chocolate mommy 59 dollari però al pc 59 dollari di nuovo questo cos'è questo è un picchiaduro prendo una strategia va prendiamolo proviamo a portare una stratega un gioco di strategia sul mio canale non l'abbiamo mai fatto potevo comprare anche un pozzo per il computer ma devo tornare mi devo tenermi soldi per le bollette se arrivano le bollette poi non ho soldi è un casino sapete che faccio lo faccio dormire un attimo così si recupera poi apri sto gioco e subito vai qui e fai un nuovo video nuovo video su quello chocolate mommy ok facciamo una prima impressione prima impressione e inizia video ok perfetto perfetto state tranquilli ho le cose sotto sto tenendo tutto bene sto tenendo bene posto lavoro 1 ok basta risoluzione pop up 23 punti vai prima impressione su questo chocolate mommy editore senza riposo che devo fare fare video pubblicarne ancora ancora ogni giorno ok non preoccupare gli sto facendo i video visualizzazione un milione allora saluto con la mano ciao ciao ok perfetto fulmine in testa fulmine in testa metto questo che mi dà due per due fa tre infatti è buono lacrime dagli occhi mi serve quello con la post produzione vai così bisogna la post produzione sempre bassissima tornato in testa post produzione così me lo raddoppia però adesso mi serve qualcosa col copione cos'è questo se salito di livello urlo celebrativo salito di livello per forza deve essere non è quello invece caricamento con avviso commento fuori luogo non è neanche questo è questo qui un sommario del gioco viene mostrato sotto con la mano saluto con le tette ok perfetto allora metti questo c'è qualcosa che c'è mamma mia questo è difficile questo è difficile dove cazzo lo prendo prendo questo che mi si collega con una minchia di niente mi si collega guarda è collegato malissimo non è proprio collegato sto sto video potevo metterlo lì ma non si collega con niente non si collega perché tutti sballati vabbè mettiamo muschi sottofondo per renderlo più bello mettiamo anche la transizione al nero e mettiamo anche aggiunto il colore e aggiungi il titolo 18 ore di rendering bene il gioco non interessa nessuno mi fa molto piacere che non vi sia piaciuto questo gioco che cavolo che cavolo allora dormi lo faccio dormire abbastanza lo faccio dormire sapete che faccio vado anche a lavorare tanto finché non faccio tutto il resto ma fatti programmatore va sto diventando un programmatore serio comunque lui non rompere i campi coglioni si gioca un po non rompere i coglioni che cos'è lui continua sempre insistere insistere qua non ho capito cos'è continua sempre a dirmi fai questo fai quello viene ogni cinque minuti vuoi uscire vuoi uscire vuoi uscire drogato che non è altro viva a sbafo vive lui tutti quei capelli lunghi fai di quei capelli ok dormi tanto si sta caricando quest'altro video e poi e poi niente lo faccio dormire lo faccio dormire gli faccio acquistare qualcosa mi servirebbe qualche altro gioco andiamo a vedere cosa possiamo comprare così poi finisce con questa puntata e ci fermiamo per non fare una puntata troppo lunga anche perché c'è un pochissimo tempo amazing home ok eh no che non riescono a giocare uh guarda questo invisible life seleziona e lo compro tac noi ci vediamo nella prossima puntata sempre qui su youtube life ciao